Sta viminos, orribilmente erringhia, e samina le colpe nell'intrata, giudica e mandase con chi avvinghia. Dico che quando l'anima malnata gli viene dinanzi, tutta si confessa, e quel conoscitor delle peccata vede qual loco d'inferno è da essa. Cignesi con la coda tante volte, quantunque gradi vuol che giù sia messa. Sempre dinanzi a lui ne stanno molte, vanno a vicenda ciascuno al giudizio, dicono e odono, e poi soggiù volte.